Tante novità a Verona, ma oltre a tante giocatrici nuove che arrivano ogni giorno c'è anche una novità ulteriore. Mattia Martini, consulente di mercato della GSM Verona. Sicuramente Verona è una piazza importante, una piazza che ringrazio per avermi cercato, avermi dato fiducia perché è una squadra vincente con il tecnico più titolato della Serie A, e sicuramente una formazione alla società da cui ripartire per puntare a fare bene. Vieni da una bella esperienza con la squadra Viola come consulente dei Minister Fattori. Sicuramente devo ringraziare il tecnico perché mi ha voluto come suo consulente esterno, mi ha dato la possibilità di girare l'Europa e confrontarmi con grandi club europei, per questo lo ringrazio per tutta la mia stima e ammirazione e colgo l'occasione per augurare il meglio a Fiorentina, al presidente Vencucci, amministratore delegato Vincenzo Vergine e al tecnico. Come sta da profondo conoscitore del calcio femminile, non solo italiano ma anche europeo e mondiale, come sta questo calcio femminile in Italia rispetto agli altri paesi europei? Sicuramente è in ascesa, dobbiamo rivedere certe cose, soprattutto sotto il punto di vista dell'organizzazione, di una mentalità che si spera avviarsi verso il professionismo. Vediamo, siamo fiduciosi e dobbiamo lavorare tutti in un senso per portare maggior attenzione, cura dei particolari e organizzazione per il nostro calcio.